Carlo Esposito, Presidente dell'Associazione Sviluppo Area Porto, oggi qui ai microfoni di TV City per fare un appello, un appello per una famiglia che purtroppo è rimasta senza casa, vivevano a Corso Garibaldi, cosa è successo? Venerdì scorso è stata sgomberata una famiglia da un edificio probabilmente pericolante e per motivi di sicurezza è stata sgomberata, il problema è che questa famiglia non è una famiglia benestante e quindi vivevano lì anche in una situazione abbastanza precaria e quindi praticamente è stata attualmente divisa, quindi i genitori sono da una parte e i figli sono ospiti di altre persone, però l'aggravante è che il papà che ha scontato il suo debito con la giustizia in carcere adesso era agli arresti domiciliari per gli ultimi mesi e quindi praticamente risiedeva presso questa abitazione. Il problema che si crea è che chiaramente non avendo più un domicilio dovrà rientrare in carcere perché non ha più una sede stabile, si sfascia di fatto una famiglia perché già precaria di per sé con questa situazione diventa ancora più problematica. Quindi lei vuole fare un appello alle istituzioni per individuare dei locali che possano ospitare questa famiglia? Esatto, l'appello è all'istituzione e a chi ha magari qualche appartamentino modesto ovviamente dove praticamente far alloggiare queste persone che pagheranno ovviamente regolarmente l'affitto perché comunque noi ci siamo mobilitati per dare una mano concreta e quindi dare la possibilità di riunire la famiglia e continuare a vivere la loro vita insomma anche se precaria ma insieme. Perché in fondo è giusto mettere in pratica anche quello che diceva Papa Francesco ieri? Sì, infatti il Papa diceva nel suo Angelis una frase che mi ha particolarmente colpito che dice chi cerca Dio lo trova lì nei piccoli, nei bisognosi, non solo di beni ma di cure e di conforto come i malati, gli umiliati prigionieri e gli immigrati che carcerano, lì c'è lui. Quindi sostanzialmente se siamo credenti, io non lo sono, bisogna aiutare chi ha bisogno, anche i carcerati.